Buongiorno ragazzi, sono Mirko e Andrea Ventre di Scena, ho fatto un nuovo video Oggi sono guardati un nuovo video, bambia di merda A chi ora deve passare? Oh, sono guardati un nuovo video con il mio cappello sexy Fuori, in terrazzo, intanto ragazzi è notare, volete vedere il gaccio? Ah, il gaccio che cazzo c'è, il gaccio Intanto la neve, la neve che mi è rimasta con le fedie Questa ragazzi è una lastra di gaccio Questa ragazzi è una lastra di gaccio Ma oggi ragazzi non facciamo, non siamo qua ragazzi Per farvi vedere le lastre di gaccio Passiamo a Sir Passiamo su la serie in un nuovo video per parlare un po' di qualcosina Di qualcosina molto sexy Eh, sexy, ben sexy Intanto sto scivando queste lastri Si vedono Ok ragazzi, adesso vediamo più una, una, una E in fondo che forza la serie vi farò vedere E poi qui sono le Pringles Molto figo le Pringles Molto figo le Pringles Molto figo E io ripeto, mi sono più fattivo Ma cosa c'è, c'è c'è che passa Va bene Manco salutano Le Pringles Va bene, non ci sono Iniziamo qua per le Pringles Iniziamo qua per la neve ragazzi un po' di neve anzi la maggior parte della neve se ne è andata oggi perché oggi ha nevecato poco questa mattina ma pochissimissimo e ma domani porca droga vabbè ok basta non andate ok ragazzi oggi siamo qua il posto il posto è qua cosa ragazzi vuoi fare o vorrò fare con i cartelletti ancora se riesco a fare qualcosina alleluia anzi se c'è qualcosa c'è la neve magari non mi brucio il dito boom guarda c'è gente c'è gente ragazzi ho fatto ho fatto ragazzi una un orologio con il fattoletto di piano a fuoco e poi ragazzi andrà a buttare nella neve dopo la la neve si prenderà ok noi buttiamo ragazzi sul ghiaccio per sicurezza oh cazzo non mi vede più che andiamo col secondo fattoletto ragazzi ma non è che se ce ne voglio fare un po' l'ho eh però voglio un po' giocare con ci perché fa noio allora io mi butterei un po' di neve addosso ok facciamo così che mi ha due ok ragazzi io buttavo un po' di neve addosso che schifo che schifo ti burto nel ghiaccio spentico spentico con sto ragazzi dei fattoletti ma lo sto rapprozzando ragazzi nel ghiaccio non mi fide tanto nooo mi dice che il fattoletto ragazzi di secondi boom poi ragazzi io faccio con i suoi sopra perché esco quelli di sopra mi ero un po' nel cazzo vedrò boom porca putzana scotta vuoi un pezzo è commessibile no è commessibile accenderemo il bastone oh perfetto il bastone non trasformerà mai nella vita accenderemo una foglia che sarà tre giorni sotto la neve no c'è gente c'è un tibo oh non è mai proprio così di parare di accenderemo vabbè facciamo a prendere queste ragazze ragazzi che accenderemo il fuoco signore mi sa Se lo stai facendo non buttare la mano dai parola ti c quandai come se la genna ah facciamo cosi dai a 스트�aret buttarlo facciamo così Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.